Buon pomeriggio, effetto della BCE della politica monetaria sui mutui. Per i nuovi a tasso fisso le rate dovrebbero raddoppiare nel corso dell'anno. Per quelli a tasso variabile, atteso un balzo del 55 o 65%, stima della Fabi, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, dopo il nuovo rialzo deciso giovedì dalla Banca Centrale Europea contro l'inflazione. Per quanto riguarda invece i vecchi mutui, sempre secondo i calcoli della Fabi, le rate dei prestiti a tasso variabile hanno subito aumenti fino al 70%.